Buongiorno, sono Luca Settino, per chi non mi conosce sono Sales Engineer che lavora nel territorio del centro Nord Italia e l'argomento del webinar di oggi è appunto le funzionalità nuove che il firmware 1210 porta con sé. Iniziamo a vedere innanzitutto su quali modelli il firmware 1210 viene applicato e quindi è già disponibile ricordo in General Aviability, quindi chi vorrà potrà già poter upgradare i propri firewall. Chiaramente viene aggiornata alla 1210 tutta la serie M, la serie T quelli più recenti, il Fireworks NV5, il Fireworks Virtuale e il Fireworks Cloud. Il Fireworks 1210 non è supportato dai T15 e dai T35, dove chiaramente continuiamo il supporto alla versione 12.5. Iniziamo a vedere quali sono le novità portate di fatto dalla versione 12.10 del firmware dei apparati Fireworks. Come primo miglioria abbiamo l'IA fetching. Di che cosa si tratta? L'IA fetching è sostanzialmente la possibilità del Fireworks di recuperare quelle che sono le Authority Information Access, che è sostanzialmente delle estensioni dei certificati SSL, che contengono informazioni più estese rispetto a colui che emette il certificato. E quindi qual è sostanzialmente il vantaggio? L'estensione aiuta a recuperare i certificati intermedi e quindi aiuta ad avere meno problemi per quanto riguarda la navigazione via browser, sia per quanto riguarda gli errori sui certificati e chiaramente ottenendo una navigazione sicuramente migliore. Dove si applicano chiaramente questa possibilità di avere una raccolta immediata di certificati intermedi all'interno delle Proxy Action HTTPS Client. Di default questa funzionalità è abilitata in tutti i profili TLS esistenti e futuri. Per quanto riguarda i Fireworks Local Managed, quindi gestiti con Fireware WebUI o il WSM, tramite appunto il Policy Manager contenuto del WSM, essa si può abilitare o disabilitare chiaramente sulle regole la bisogna. Per quanto riguarda invece i Fireworks Cloud Managed, la funzionalità è automaticamente abilitata e non è possibile disabilitarla. Come già detto, solo le Proxy Action HTTPS Client usano appunto questa novità. e come vediamo nella successiva mail, come è semplicissimo andarla ad attivare, quindi in realtà sulla WebUI si ritrova il checkbox dove poter attivare nei TLS Profile questa tipologia di feature. Stessa cosa ovviamente l'abbiamo all'interno del Policy Manager. Introduciamo anche quello che è il supporto alle connessioni WebSocket, quindi di che cosa si traduce? Innanzitutto definiamo che cos'è il protocollo WebSocket, il protocollo WebSocket permette la comunicazione bidirezionale tra client e server attraverso una singola connessione TCP, quindi di fatto diventa più immediata e veloce ed efficiente data transfer tra client e server. Ad esempio proprio il protocollo WebSocket è implementato attivamente nella comunicazione degli agent dell'endpoint di Watch Hat, proprio per permettere una comunicazione in real time con le console in cloud. Possibile dunque attraverso questo nuovo supporto andare a specificare quali HTTP proxy action possono consentire questa tipologia di comunicazione e le connessioni WebSocket sono disabilitate per default per tutte le proxy action e quindi anche qui avremo comodamente la possibilità di attivare alla corrispondente voce alla WebSocket la possibilità di utilizzare all'interno di quella proxy action questa tipologia di protocollo. Sia per quanto riguarda ovviamente la WebWire, per quanto riguarda le connessioni WebSocket, per quanto riguarda un'altra novità e ci sarà qualcuno tra di voi magari che sobalza dalla sedia per mettere la battuta perché chiaramente questa introduzione dell'alias predefinito Microsoft 365 è un qualcosa che alleggerisce di molto la gestione dei firewall. Questo perché? Perché di fatto il Firebird 12.10 fornisce un alias di default denominato Microsoft 365. Cosa significa? Che l'alias di fatto include una lista di domini FDN e indirizzi IP usati da Microsoft per erogare i propri servizi a cloud. E quindi poter utilizzare tranquillamente questo alias predefinito all'interno delle policy del Firebird per poter permettere a chi sta dietro l'apparato a raggiungere in maniera sicura ed aggiornata tutti i servizi erogati appunto dalle sottoscrizioni Microsoft 365. Il vantaggio inoltre è che sarà WatchCard direttamente ad aggiornare l'alias, cosicché quando Microsoft aggiungerà nuovi servizi, va a modificare i domini già esistenti piuttosto che gli indirizzi IP, non si dovrà necessariamente configurare manualmente tutta la lunga lista di eccezioni che cambia di frequente come probabilmente siamo già abituati a fare. Le signature relativamente all'alias si possono forzare, possono aggiornare manualmente oppure autonomamente ci penserà l'apparato. Chi ad esempio ha già creato all'interno di fatto dei propri apparati un alias denominato Microsoft 365 perché probabilmente è la versione manuale di questo nuovo servizio, esso verrà automaticamente rinominato come Microsoft 365.1 perché Microsoft 365 come nome verrà preso dalla lista di fatto automatica dall'alias che propone l'aggiornamento della 12.10. così come l'alias modificato, se presente in qualche policy, chiaramente verrà rinominato contestualmente. È chiaro che avendo a disposizione l'alias, esso può essere poi utilizzato in tutte le forme di gestione che già conosciamo, attraverso la web UI, attraverso il WSM e comparirà chiaramente anche all'interno dei built-in aliases presenti sul Watcher Cloud qualora il firewall è gestito via cloud. Ricordiamo che chiaramente gli alias di default sono immodificabili e mai lo potranno essere. Come si aggiorna sostanzialmente l'alias Microsoft 365? L'alias Microsoft 365 si aggiorna cercando il box denominato Enable Automatic Update che utilizziamo già per l'aggiornamento automatico dei servizi di sicurezza. Esso che sia gestito via Fireware Web UI sia che sia gestito tramite WSM. Una volta attivato questo checkbox, anche l'alias Microsoft 365 verrà chiaramente monitorato e aggiornato se WatchGuard rilascerà nuovi dati appunto per questa caratteristica. Così come all'interno della web UI nella pagina dei subscription services si potrà verificare lo stato di aggiornamento dell'alias Microsoft 365, vedere a quale signature appartiene ed eventualmente tramite il bottone apposito poter aggiornare modificando i dati dell'alias stesso. Dal WSM è possibile verificare chiaramente la stessa situazione potendo appunto verificare qual è l'attuale installato, qual è l'ultima volta che si è aggiornato di fatto l'alias ed eventualmente se ci sono delle versioni nuove disponibili. E' chiaro che attraverso la web UI e il WSM abbiamo la possibilità di aggiungere automaticamente questo alias all'interno delle nostre firewall policy. Un'altra nuova caratteristica portata dalla 12.10 è l'endpoint enforcement con la possibilità di aggiornamento a quale versione minima dell'OS il client di fatto che cerca di aprire un tunnel VPN è chiamato a rispondere. Quindi qual è il requisito minimo a livello di operation system. Facciamo un passo indietro. Andiamo a, per chi non lo sapesse, a definire che cos'è chiaramente il servizio di network access enforcement, precedente chiamato endpoint enforcement. Ha, diciamo, l'eredità da parte del TDR, quindi già il TDR implementava questa funzionalità, nel corso del tempo lo abbiamo implementato anche nei prodotti endpoint, quindi EPDR, EDR, endpoint protection e così via. Anche chiaramente per coloro che utilizzano gli stessi prodotti apprendizzati Panda. Sostanzialmente, quando un client, quindi un PC con il client VPN installato, tenta di accedere al firewall, se questa funzionalità di network access enforcement è attiva, il firewall va a verificare più caratteristiche. Sostanzialmente va a verificare se l'endpoint è attivo o funzionante sulla macchina, quindi di fatto anche la macchina è protetta, prima di farla accedere in una rete privata, e se correttamente impostati si andranno a verificare quali sono i requisiti minimi a livello di OS, quindi di sistema operativo, per poter far accedere questa macchina. Abbiamo introdotto anche la possibilità, quindi, che i requisiti minimi siano almeno Windows 11 e Mac Ventura 13, ma in realtà chiaramente si può tornare indietro. Ma la cosa interessante è che è possibile inoltre specificare una minor release del sistema operativo, quindi poter andare a specificare quale tipologia di minor release di Windows 10, di Windows 11, di fatto il firewall accetterà le connessioni provenienti da questi sistemi operativi. Accetta praticamente il box, accetta di fatto fino a tre segmenti di numeri separati da punti, quindi di fatto riferendosi chiaramente a come Microsoft enumera le proprie minor release di sistema operativo. Lo fa solo tramite numeri e quindi le lettere non vengono supportate. Altra, di fatto, novità è riguardante la rimozione dell'account di default VGSupport. Questo, di fatto, è rimosso a partire dal firewall 12.10, non è più presente di default come built-in account, ma in realtà nulla vieta che se richiesto sarà possibile aggiungerlo appunto tramite le interfacce di gestione che conosciamo, quindi la web UI o il policy manager. Abbiamo anche rimosso il supporto a TLS 1.0 e alla porta 41.10 per coloro che fruiscono del management server. Questo sappiamo perché il TLS versione 1 sta per essere deprecato ovviamente non soltanto da WatchGuard ma praticamente da innumereboli vendor proprio per, diciamo, l'insicurezza intrinseca appunto della versione 1.0 e quindi di fatto abbiamo eliminato la possibilità di attivare o disabilitare per il TLS 1.0 per il management server e per il log server. Per quanto riguarda il firewall 12.10, i Firebox useranno di default TLS 1.3, ma ricordo che la versione 1.2 è ancora supportata. In aggiunta per il management server non rimane più in ascolto sulla porta TCP 41.10, ma chiaramente segue di fatto che cosa? La TLS 1.2 e 1.3, come già detto, e quindi rimarranno in ascolto le porte 41.12 e 41.13. Aggiungiamo il supporto SNMP per ottenere informazioni dai protocolli di routing dinamico, quindi sarà possibile attraverso delle query SNMP ottenere informazioni sui vari protocolli di routing dinamico che ovviamente da qualche tempo vengono supportati dai nostri Firebox e chiaramente utilizziamo dei MIB OID standard come qua riportati per poter ottenere informazioni circa BP Routing Table, RIP, OSPF e BGP. È importante notare che tanto più è il numero maggiore di rotte che utilizziamo sul firewall, tanto più andare a fare delle query SNMP per ottenere informazioni richiederà una capacità di calcolo maggiore e quindi potrà risultare in un impatto sull'utilizzo della CPU e degli apparati Firebox. Altra novità riguarderà la mobile VPN con il client SSL portato alla versione 12.10. Questo perché abbiamo aggiornato dei componenti e quindi di fatto aggiornato le versioni di OpenVPN e OpenSSL, aggiornato il TAP driver e chiaramente ho fatto il solito bug fixing che viene ovviamente basilare quando si aggiorna le versioni andando a risolvere i problemi delle versioni precedenti. Per quanto riguarda di fatto il WatchCard Mobile VPN per SSL e Windows supporta di fatto la versione Windows 10 e Windows 11 e per quanto riguarda Windows Server 2016, 2019 e 2020.